Ciao a tutti, siamo con Nino Schurter. Ciao Nino. Solo due piccole questioni. Prima, cosa pensate di questo Valdisole? È un corso molto difficile, è un'esplosione difficile, con molti spettacoli, non è la più tecnica, ma è un corso fisico. E' una battaglia difficile, sicuramente. Secondo, quale set up preferisci per questa track? C'è un'esplosione speciale, o un'esplosione speciale per la tua bicicletta? Ho usato il mio Scotsport, full suspension. Abbiamo molti strass, dove è abbastanza bambino. Abbiamo un grande supporto per la mia full suspension. Abbiamo un'esplosione speciale, anche per questo tipo di track. Il resto è simile a tutte le altre raci. Io riusco a 30-60, perché i spettacoli sono abbastanza spettacoli. Normalmente riusco a 30-38. Il resto è lo stesso che ho usato nei precedenti World Cups. Ok, grazie mille, e buona fortuna. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.